Un cialtrone, un ipocrita, un buonanulla, un falso, uno zerbino, dopo parleremo dello zerbino, mi ha segnalato un video su pandino scassato. Ebbene, ho dato mandato ai miei legali di intervenire, ho dato mandato ai miei legali di fare le cose per bene, di fare le cose sul serio, di chiedere soldi a persone che hanno arrecato danni in maniera infame e ingiusta al mio canale. Io non ho fatto nulla, questa persona si è resa complice di dissing che hanno inquinato la piattaforma, ma adesso ho fatto un invito, aperto a tutti, complottisti contro dei banchi. Ebbene, sono qui, fai un videoreplica, puoi recuperare la situazione, puoi venirne fuori pulito, sono disposto a intavolare una trattativa, a parlarne, Ma sappi, se ciò non avverrà, ho delle prove scottanti, nei tuoi riguardi, ho la pistola fumante in mano, ho la verità.